Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archevi Parla, come accennato in parte nel video di ieri è stato annunciato Modul Warfare 2 che già in realtà si sapeva, con qualche altra informazione aggiuntiva. Ma adesso comunque pochissimo, nonostante siano già partiti i pre-order, con tantissime diverse edizioni e tante cose da poter pre-ordinare e ottenere, ma penso che di base alla fine ci sia la versione standard, quella next-gen, e la cosiddetta versione ultimate da un centinaio di euro circa, con tantissimi altri contenuti aggiuntivi, ma come è stato per questi ultimi capitoli, presumo che tutti quanti i DLC aggiornamenti saranno gratuiti, qui nessun season pass o contenuti comunque a pagamento, a parte le microtransazioni, bundle, battle pass, queste classiche cose. Oltre quindi a tutto quanto l'artwork e le immagini, arriva la conferma, Modul Warfare 2 arriva il 28 di ottobre. Tanti si aspettavano ottobre come mese di uscita e ci sta, anche se qualcuno vociferava di una specie di anticipo di COD, sicuramente il 28 ottobre non è un così grosso anticipo, fosse stato tipo il 7 ottobre comunque inizio mese, già sarebbero cambiate un pochino le cose, come è stato per Black Ops 4, che uscì, se ricordo bene, il 12 ottobre, che per COD è relativamente presto. Dai teaser, comunque successivi anche dal trailer dell'artwork, si è visto questo container con su scritto J822, che a molti ha fatto pensare un reveal l'8 di giugno, per cui J di June in inglese, e 8-8 giugno 2022, praticamente il giorno prima di tutti quanti i reveal per Summer Game Fest e la conferenza anche di Xbox, dato che purtroppo quest'anno manca le 3, per cui diciamo che ci sono tutte quante delle conferenze uniche, e anche per COD qualcosa a riguardo, sarà il classico reveal magari di 30 minuti poco più, in cui ci fanno vedere nel gioco un trailer, non penso già a qualcosina di gameplay o simili, ma comunque un inizio per questo periodo di reveal e informazioni di MW2. Come sempre ci sarà più avanti una alfa e una open beta, che si può già adesso ottenere, per chi preordinerà il gioco dalla versione base o cross-gen, e appunto arriverà prima su PS4 e PS5, come è sempre stato per questi ultimi anni. Non ci sono delle date specifiche, qualche leak parlava di una specie di open beta, anche la parte closed, verso agosto, che è sicuramente tardino, ma circa la tempistica classica. Come ho detto prima per dire quelle che sono le versioni aggiuntive oltre che standard e cross-gen, c'è questa Vault Edition, che credo sia la Ultimate, quindi Battle Pass con 50 skip, operator pack, 10 ore di XP doppi, XP armadoppi, accesso ovviamente alla beta, delle blueprint, tutte queste cose, e presumo che costi appunto sui 100, massimo 120 euro, le classiche edizioni che costano di più, ma ci sono tanti altri contenuti, e per chi vuole appunto il Battle Pass e 50 skip, già inizia a valere qualcosina in più. Il gioco verrà rilasciato per PS5, PS4, entrambe le console Xbox Series, Xbox One e PC. Quindi ancora una volta le vecchie console non vengono lasciate indietro, come alcuni già magari stavano un pochino pensando, ma Xbox One e PS4 ancora supportate, il capitolo ancora uscirà. C'è da dire che Vanguard e Cold War, per quanto non girino proprio al 100% sulle vecchie console, funzionano in maniera ancora decisamente decente, contro la Black Ops 3 per PS3 e Xbox 360, che presentava molte più mancanze e molti più problemi. Stiamo a vedere con questo MW2 quanto si spingerà in avanti la grafica, le performance e tutto il resto, ma c'è anche da considerare che tantissime persone non hanno le console next-gen perché sono proprio difficili da ottenere, quindi lasciare indietro un probabile 50% se non di più della community, per Cold sarebbe una mossa totalmente sbagliata. Continuo però a pensare che forse dal 2024, dato che l'anno prossimo salta un COD, potremmo iniziare magari a parlare di lasciare indietro le vecchie console, dato che già si vocifera anche di console mid-gen, quindi una PS5 Pro e un'altra console Xbox, saremo comunque a vedere tutto quanto per la maggior parte è leak e rumor. La cosa interessante più che altro, ricollegato a questo MW2, sono tutte quante le voci di corridoio per quanto riguarda Warzone 2, che dovrebbe essere completamente distaccato e un'altra applicazione, o forse l'applicazione stessa di MW2, come Warzone 1, tra virgolette, e l'applicazione stessa di MW2 e tutti i cambiamenti, la nuova mappa, e praticamente la mappa nuova che verrà utilizzata anche per DMZ, che dovrebbe essere questa terza modalità di MW2, qualcosa di simil Tarkov con anche degli shop, degli specie di 33 giocatori, e comunque qualcosa di molto più aggiornato e ampio. Spero sicuramente possano fare passi avanti rispetto alle operazioni speciali e sopravvivenza di MW2 2019, che stava cercando di ricalcare un pochino MW3 e ci poteva stare, ma la realizzazione finale, almeno da quello che io ho provato, non è assolutamente confrontabile rispetto all'originale di MW3, che tra i DLC e altri aggiornamenti, la modalità Chaos, è stato migliorato veramente tantissimo e offriva tanti contenuti. Alla fine su MW2 2019 hanno aggiunto forse 4 Spec Ops, e non è che mi piacessero così tanto, quelle classiche sono state sempre le stesse, e la sopravvivenza non offriva magari così tanto gameplay o divertimento, e la difficoltà non era neanche selezionabile in certi casi, c'era una cosa standard per cui dovevo utilizzare le armor, rigenerazione, ma non c'era magari soldato, esperto e veterano, come è stato fatto in passato per le Spec Ops e simili. Se dovessero fare una terza modalità veramente ampia e aggiornarle in maniera costante, potrei allora essere vagamente interessato, se ovviamente divertente e interessante. Quindi a parte tutta quanta la pubblicità per questo code come sempre spammata ovunque, e appunto i pre-order che sono partiti, ancora adesso si sa il giusto. Tutto il resto sono informazioni che girano un pochino in giro, ma non sono confermate e non sono in via ufficiale. Aspettiamo quindi questo reveal, tutte quante le informazioni per alfa, beta e il gioco in sé, e attendiamo quindi il lancio del gioco, che è a circa 5 mesi di distanza. Cercherò comunque col tempo di tenere aggiornati per MW2 per quelle che potrebbero essere le news interessanti, per quanto ovviamente non c'è una modalità zombie, quindi per noi ci interessa diciamo di traverso. Se questa terza modalità dovesse essere veramente figa e magari volessi giocarla, probabilmente prenderei il code al lancio. Come ho detto altre volte mi interessa giusto perché verrà aggiornato per ben due anni, quindi sono curioso di tutto quanto il processo di supporto del gioco, distribuzione dei contenuti, e quanta roba veramente ci vorranno dare, perché due anni per un code sono veramente tanti e già riempire un anno ogni tanto è difficile, vediamo adesso Vanguard, quindi stiamo a vedere e come sempre attendiamo anche news per i code futuri, per quanto sia molto presto, e i progetti successivi di Treyarch e gli altri studios per Call of Duty. Voglio sapere come sempre ragazzi le vostre opinioni per chi è interessato a questo gioco, chi lo acquisterà e chi appunto sta invece aspettando informazioni per la terza modalità, per Warzone 2, una alfa, una beta, e tutte queste cose che sono molto importanti e serve come sempre molta pazienza. E vi ringrazio il secondo code qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, tutte quante le informazioni le ho prese da i riposti di Charlie Intel, che come sempre hanno spammato per bene tutto quanto una cosa dopo l'altra, per cui la loro pagina è veramente il top per recuperare tutto quanto se vi siete persi le informazioni, per quanto sia spezzettato post per post, quindi per recuperare tutto quanto, bisogna vedere magari 20 o 30 tweet, quello è un po' fastidioso. In descrizione ci sono anche tutti quanti i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti.